Una bella giornata di sole caratterizza il battaglia per questo bustese e arconatese inserita nel quadro della terza giornata del girone di ritorno di eccellenza. Arconatese avanti al venticinquesimo al termine di questa bella serpentina di Ravasi. Reazione granata immediata, due minuti più tardi, Romano fa 1 a 1. Grazie a tutti. Inizioni, Gervasoni porta la bustese in vantaggio e le due squadre all'intervallo. Grazie. 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 All'ottantunesimo la fuga di Romano porta al 3 a 1. Sul triplice fischio finale il tapin di Sala fissa il punteggio sul 3 a 2. Grazie. 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 Grazie.